La Valtiverina chiede a tutti i viaggiatori di fermarsi nei suoi borghi e di raccontare le loro storie. È lo spirito che anima il Festival del Racconto del Viaggio, iniziativa in programma dal 15 al 17 maggio a Pieve Santo Stefano, Anghiari e Sansepolcro. Personaggi conosciuti, impegnati a vario titolo nella vita civile, forniranno le testimonianze su alcune esperienze itineranti, più o meno impossibili, che hanno compiuto nella loro vita. Ecco, questa manifestazione, perlomeno questa prima edizione, coinvolge soprattutto personaggi conosciuti e popolari. Ci sarà spazio in futuro anche per ospitare le esperienze di persone meno famose? Sicuramente. Lo scopo è proprio quello di riuscire a portare qui in Valtiverina persone che vogliono raccontarsi e quindi riferire le loro esperienze di viaggio, anche le più comuni, magari davanti a un bicchiere di vino in una vallata che merita di essere visitata. Ci sono anche altre manifestazioni di questo genere in Italia? Ce ne sono molte, sono soprattutto specializzate sullo scritto, sui diari o sulle pubblicazioni che riguardano i viaggi. Questa qui vuole essere, molti hanno scritto su queste loro esperienze un libro, però vuole essere soltanto un racconto. Ci limitiamo al racconto orale, l'importante è che si venga qua.